Benvenuto o benvenuta in questa meditazione guidata. Chiudi gli occhi e prendi una profonda inspirazione e adesso espira fuori tutta l'aria. Iniziamo con una breve consapevolezza del respiro, porta la tua attenzione al flusso naturale del respiro che entra ed esce dal tuo corpo. Non c'è bisogno di provare a cambiare il ritmo del respiro, semplicemente osservalo e senti il movimento ritmico dell'aria che circola in tutto il tuo corpo. Osservare la velocità del tuo respiro ti permette di comprendere anche in uno stato più profondo il tuo umore. Ora immagina che il tuo respiro possa diventare una forma di quadrato. visualizza questo grande quadrato davanti a te. Ogni lato di esso rappresenta una fase del tuo respiro. iniziamo con il primo lato che è l'inspirazione. inizia, ispirando lentamente e profondamente, contando fino a 4 mentre il tuo respiro si allunga. immagina che il tuo respiro segua il lato sinistro del quadrato salendo verso l'alto. Mentre raggiungi la cima del quadrato, mantieni il respiro per un attimo, ancora contando fino a 4. questo è il secondo lato del quadrato, la trattenuta del respiro. osserva la calma e la stabilità di questo momento di pausa. ora inizia ad espirare dolcemente e lentamente, contando fino a 4 mentre il tuo respiro si allunga. immagina che il tuo respiro segua il lato destro del quadrato, scendendo verso il basso. arrivato in fondo al quadrato, mantieni i tuoi polmoni vuoti e scarichi di aria per un attimo. se riesci contando sempre fino a 4. senti la leggerezza e il rilascio in questo momento di silenzio interno. ora il tuo respiro ha completato il primo giro del quadrato. ora lo riesci a visualizzare completamente. continua a seguire il ritmo del quadrato con il tuo respiro. inizia inspirazione trattenuta espirazione pausa immagina il quadrato che si espande e si contrae con il tuo respiro creando uno spazio di calma e di equilibrio mentre pratichi ti potrebbe capitare di cogliere la tua mente a pensare a qualcos'altro se ciò accade sii gentile con te stesso e riporta delicatamente la tua attenzione al respiro e al movimento del quadrato ricorda che la respirazione soprattutto questo esercizio può essere un potente strumento per rilassarti per concentrarti e ritrovare una pace interiore smarrita puoi praticarla in qualsiasi momento questi esercizi sono sempre alla tua portata di mano per ristabilire l'equilibrio e ritrovare la tranquillità continua a respirare nel quadrato per qualche istante sperimentando la calma che pervade tutto il tuo essere quando ti sentirai pronto gradualmente potrai riaprire gli occhi scegli tu quando la musica continuerà ad andare portando con te questa sensazione di pace e benessere per il resto della tua giornata ti auguro di poter mantenere questa calma anche al di fuori di questa meditazione grazie di cuore per l'ascolto a presto namastè grazie a tutti 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 grazie a tutti